Non si sa più... Assolutamente sì, l'abbiamo presentato al nostro disegno di legge di commissione bicamerale di inchiesta. Renzi ormai se n'è dimenticato, dopo le polemiche iniziali e dopo aver accettato la mia proposta di commissione di inchiesta non se ne parla più. La maggioranza non ne parla più, tutto rinviato alle calende greche. L'ennesimo blef di Renzi, l'ennesimo imbroglio di Renzi.